La giornata è interessante. L'intervento di Fabrizio come ti è sembrato? Ottimo perché comunque ci ha riassunto quelle che sono le cose più importanti da sapere per approcciare a questo tipo di attività. Benissimo, nella sessione pomeridiana tratteremo le strategie di trading con Riccardo Guidi. Come ti è sembrato Riccardo? Riccardo mi è sembrato un professionista veramente bravo e competente. Credo di ricevere delle informazioni veramente importanti per l'operatività che io già metto in atto ogni giorno. Benissimo, grazie mille. Prego. Buongiorno Stefano, benvenuto. Prima sessione conclusa, come ti sono sembrati gli interventi dei relatori? Allora, mi sono sembrati estremamente coerenti, estremamente chiari soprattutto. Questa forse è la grande differenza che ho visto rispetto ad altri relatori. Si è parlato di quello che ci interessa, nel senso di andare a fare le cose pratiche, non tanto di strane teorie alleggianti. Quindi sì, molto chiaro, mi è piaciuto. Nella sessione pomeridiana con Riccardo Guidi affronteremo le strategie per il 2018. Tu hai già una tua strategia, come ti approcci al tuo trading? Allora, io mi appoggio che oggi sono una spugna prima di tutto, quindi tento di apprendere il più possibile da persone che ne sanno molto più di me. Poi d'altra parte, come già avete detto, studio, studio, studio e tanta disciplina. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi, grazie. Per me è molto interessante, io ho già un conto con XTB da ottobre, mi trovo abbastanza bene come piattaforma, come broker, secondo me è il migliore che ho provato. Non ho una grande esperienza, però per quello che da diversi anni che faccio trading online, ho avuto di tutto, tante esperienze anche negative. però XTB è un buon broker e questa giornata secondo me è veramente molto interessante e credo sia anche molto utile, poi dopo dipende anche da noi. Comunque sono molto soddisfatto per ora. L'approccio strategico che ha spiegato Riccardo è semplice e intuitivo? Poteva essere meglio, poteva essere peggio? No, no, è molto semplice, è molto semplice, veramente. Anche quella strategia, quel metodo sui massimi che si susseguono, i mini si susseguono. Tante volte la soluzione migliore è quella più semplice, quindi è stato un approccio molto semplice e chiaro. Riccardo, buongiorno di nuovo, grazie mille per il tuo intervento fantastico. Dici, com'è stato l'approccio a questo pubblico? L'approccio al pubblico direi bellissimo, anche inaspettato. Le persone hanno seguito molto bene tutta la mattinata e spero di aver dato il massimo e sono molto contento. Abbiamo sentito molti partecipanti farti complimenti per la chiarezza, la semplicità, la linearità. Questo è un enorme punto di vantaggio. In questa seconda fase, in questa seconda sessione, come ti dirigerai a loro? Allora, questa seconda sessione riservata ai clienti XTV sarà un po' più tecnica e andremo un po' dentro ai mercati. Cosa non fatta stamattina, ma stamattina non abbiamo fatto un qualcosa di superfluo, anzi abbiamo visto e condiviso quanto anche la parte emotiva sia importante, spesso troppo sottovalutata. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Grazie.